Il risveglio di un nuovo potere, parte 1, è il primo dei tre DLC che costituiscono il Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot, un pacchetto che costa 25 euro e che, purtroppo, è partito col piede sbagliato. Ora vi spiegheremo che cosa non ci ha convinto, precisando che tireremo le somme sul Season Pass nella sua interezza solo tra qualche mese, dopo aver giocato alla terza e ultima parte. Il fatto che questo DLC includesse i personaggi di Wills e Bills, o Beerus, se preferite, ha fatto subito pensare l'ovvio. La storia avrebbe raccontato la battaglia degli dèi, il lungometraggio del 2013 che è stato poi riadattato nelle prime quattordici puntate di Dragon Ball Super. Invece, una volta avviato il DLC dal menu apposito, ci si trova nei panni di Goku e Vegeta sul pianeta degli dèi, al cospetto di Whis, senza un vero e proprio motivo. Whis dichiara di aver osservato attentamente le gesta dei due Saiyan e di aver deciso di allenarli per far divertire il dio della distruzione Bills. La storia si esaurisce così in una manciata di dialoghi, senza grandi pretese, prima di invitare il giocatore a scegliere se controllare Goku o Vegeta, unici personaggi selezionabili nel DLC anche per chi ha già completato la campagna. Sul pianeta degli dèi non c'è praticamente nulla da fare ed è un peccato che una mappa così bella e particolareggiata sia un semplice contenitore di sfere Z. Si può interagire solo con Whis, Bills e il pesce oracolo, che serve principalmente da negozio. Bills passa la maggior parte del tempo a sonnecchiare, mentre Whis ha due metodi di allenamento, che alla fine si riducono nel combattere sempre contro di lui. Il superallenamento consente di sfidare Whis in fasce di allenamento progressive e di ricevere come ricompensa vari tipi di acqua divina, un consumabile che assegna istantaneamente una determinata quantità di punti esperienza al personaggio su cui viene usato, purché rientri nella relativa fascia di livelli. Il problema è che, se si vuole incrementare il livello di Gohan piccolo e gli altri, occorre abbandonare il DLC e ricaricare la campagna normale. L'altra tipologia di missioni, chiamate allenamento spezza limiti, è la campagna vera e propria, pensata sia per chi ha completato la storia principale sia per chi ha cominciato il gioco da poco. In questo senso i nuovi giocatori potranno sfidare Whis in un certo numero di scontri a livello crescente, guadagnando alla fine del combattimento le varie trasformazioni di Goku e Vegeta. Ebbene sì, per qualche motivo Whis è in grado di regalare a Goku o Vegeta i vari livelli di Super Saiyan o il potenziamento del Kaioken senza affrontare le dure prove nell'avventura principale. Chi ha già finito il gioco sconfiggerà Whis in una manciata di minuti, ripetendo ogni scontro sia con Goku sia con Vegeta e ricevendo in ricompensa qualche acqua divina al posto delle trasformazioni previste. Superato l'allenamento spezza limiti con Whis, è la volta di affrontare lo scontro finale contro Bills a livello 100. Avendo scoperto che Goku e Vegeta non sono capaci di trasformarsi in Super Saiyan God, Whis teletrasporterà sul posto Gohan, Goten, Trunks e Trunks del futuro per compiere l'antico rituale Saiyan del lungometraggio. Questa scena, oltre a storpiare la storia originale, è raccontata attraverso una semplice illustrazione piuttosto che con una cinematica, come praticamente tutto il resto del gioco. Lo scontro finale con Bills è dunque l'ultimo step da superare in questo DLC e a questo proposito vale la pena di aprire una parentesi. Whis e Bills sono avversari impegnativi se affrontati alla pari, ma ciò è dovuto ai pattern d'attacco casuali e ad alcune tecniche che è quasi impossibile schivare e che si possono solo parare. Il design di questi scontri è tutt'altro che brillante, insomma, ma gli istanti finali della battaglia con Bills sono molto ben coreografati e culminano in una spettacolare cinematica conclusiva. Sconfitto Bills, il DLC ha poco altro da offrire. Al di là di qualche dialogo, i due allenamenti paralleli di Goku e di Vegeta sono identici. I giocatori che hanno concluso la campagna intorno al livello 100 impiegheranno poco più di mezz'ora per battere il dio della distruzione con entrambi Saiyan. Goku e Vegeta prenderanno a quel punto la trasformazione in Super Saiyan God e una serie di nuove costose abilità da sbloccare nei loro schemi individuali, che includono anche una tecnica speciale inedita a testa. Si sbloccano anche due scontri extra, ma non ci sono missioni intermedie con cui allenarsi, dunque resterebbe soltanto da ripetere le battaglie con Whis per accumulare i punti esperienza e l'acqua divina necessaria a crescere Goku e Vegeta in modo che siano all'altezza delle battaglie, che rappresentano l'ultima sfida del DLC. La prima parte del Risveglio di un nuovo potere ci ha deluso. I contenuti si riducono a due boss ripetuti a oltranza, senza che venga in alcun modo sfruttato il film a cui si ispira il DLC. Per il momento quindi non possiamo fare altro che bocciare questo primo contenuto del Season Pass e consigliarvi di aspettare la futura recensione del pacchetto completo. Sperando in contenuti via via più corposi, vi aspettiamo nei commenti per sapere che cosa ne pensate di questo DLC e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Grazie per la visione!